beautiful che fine ha fatto sheila carter che fine ha fatto sheila carter di beautiful se lo chiedono in tanti tra gli appassionati della celebre soap opera americana targata cbs in onda da più di 30 anni nel daytime di canale 5 dopo aver assistito a centinaia di vendette e misfatti da parte della prima nemica della famiglia forrester i nostri protagonisti sembrano poter finalmente tranquillizzarsi dopo mesi di dolori e sofferenze tornando infatti indietro nel tempo ricordiamo il crudele piano di capodanno ai danni di brooke seguito dall'insensato attentato contro steffy e fin e per giunta il sequestro del povero figlio fin il dottor finnegan creduto morto da tutti i suoi cari per fortuna dopo aver smascherato e messo fine all'ennesimo crudele piano di sheila steffy e fin possono finalmente ritrovarsi per riprendere la loro meravigliosa vita da dove si era interrotta anche brooke e ridge sembrano pronti a tornare non senza imprevisti alla loro routine ma in tutto questo che fine ha fatto davvero sheila carter ce lo svelano le anticipazioni dei prossimi episodi in arrivo su canale 5 beautiful sheila è morta davvero nelle prossime puntate della soap arriva inaspettata la comunicazione da parte del detective sanchez sulla presunta morte di sheila la gente riunisce infatti i forrester per comunicare loro che la fuga della criminale già ricercata da tempo è finalmente conclusa stando infatti a quanto riferito dal detective sheila sarebbe morta dopo essere stata aggredita da un orso difficile per i forrester credere a una notizia del genere soprattutto dopo i mille travestimenti e imbrogli messi in piedi dalla donna eppure questa volta non sembrano esserci incertezze il dna trovato sulla scena coincide con quello di sheila grazie a tutti